La cronaca politica registra oggi la festa comunista ad Esanatoglia. Ad organizzarla una nuova formazione politica denominata Sinistra Popolare Partito Comunista. I dettagli nel servizio. Da una scissione del Partito dei Comunisti Italiani è nato il gruppo politico Sinistra Popolare Partito Comunista. Raccolto attorno al suo leader Marco Rizzo, ieri a Esanatoglia per incontrare i suoi sostenitori. Rizzo è stato deputato italiano e europeo e proprio attorno a una forte contrapposizione con l'Unione Europea ruota la proposta politica del suo partito. Ad Esanatoglia in questo luogo bellissimo delle Marche per la festa comunista delle Marche appunto. Per ricostruire il Partito Comunista ma più che tutto per lanciare un messaggio ai cittadini delle Marche, ai cittadini italiani in genere. Quest'Unione Europea è quella che provoca il massacro sociale nel nostro paese. Non è colpa del semplice assessore che può far male le cose. Certamente ci sono anche i politici che fanno schifo. Il problema è l'Unione Europea e il grande capitale che distruggono il nostro paese e lo stanno trasformando in una colonia. I veri comunisti sono contro l'Unione Europea.